Quali sono le aspettative per il futuro in campo siderurgico? Buona questione, la domanda è buona, perché come aveva detto avanti, se c'è una cosa che non sappiamo qui al siderurgico è cosa succederà domani. Diciamo che le aspettative adesso devono migliorare, abbiamo visto che di un lato c'è l'ArcelorMittal che ha preso una posizione per riduire la capacità di fornitura sull'Europa, anche i prezzi in Europa sono troppo bassi, sì bassi, che nessuno fa l'importazione e questo finalmente deve avere una conseguenza sul mercato. La domanda ce l'ha, ce l'ha, l'abbiamo visto, ho parlato con tanta gente oggi che dicono che sì, che c'è la domanda e manca ancora che il mercato faccia un po' la reazione e questa reazione penso che la vediamo. Abbiamo parlato di sostenibilità, avete parlato di aziende sostenibili, cosa si sta facendo? Non tanto, non tanto, si fa a livello delle società che sono grandi, dei grandi siderurgici, si fa a livello dell'Arbedis, si fa a livello dell'ArcelorMittal, ma nella distribuzione non lo facciamo ancora, non siamo coscienti di cosa dobbiamo fare e arriverà a un punto che la legislazione sarà più restritta in quello che possiamo fare. Adesso dall'Eurometal noi stiamo alimentando il debate perché tutto il mondo sia già pronto avanti che la legislazione arriva per riduire la produzione di CO2 e di entrare nell'economia circolare per tutto, non importa dove, ma deve essere presente in tutte le decisioni strategiche che prendiamo come distribuitori.